La pausa pasquale può essere anche un momento di riflessione per le squadre mollisane della serie di Girone F. Pensieri sparsi per il Campobasso di Favo, che ha appena chiuso un girone intero sulla panchina rosso-blu. 18 partite, di cui 8 vinte, 8 pareggiate e soltanto 2 perse per un totale di 32 punti. L'operazione play-off dei Rosso-Blu richiede ancora punti e vittorie, proprio per la rimonta attuata da recanatese San Nicolò e Jesina. Il Campobasso ha visto sfumare le speranze di arrivare al terzo posto, ormai ridotte al lumicino. Meglio concentrarsi sulla quarta piazza, che implicherebbe un'immediata partecipazione dei Rosso-Blu al giro play-off, vale a dire già dalla prima domenica successiva alla chiusura del campionato. Esattamente come successe ai Rosso-Blu lo scorso anno contro il San Nicolò. Il vero problema del Campobasso sembra essere quello del gol, con un attacco che è sempre lo stesso da nove giornate consecutive a questa parte. Al Campobasso manca una punta centrale dotata fisicamente, è una squadra ricca di esterni, dediti moltissimo alla corsa. Arrivare poi lucidi sotto rete è davvero complesso. Oggi ultimo giorno di lavoro per i Rosso-Blu che chiudono la settimana con un amichevole contro la Juniors. Ripresa degli allenamenti, fissata per martedì prossimo. Ci sarà da preparare la trasferta di Ascoli contro il Monticelli. L'Olimpia agnonese attende l'ufficialità dei due punti a tavolino della gara proprio contro il Monticelli. Sorprendente la reazione della squadra dopo l'avvicinamento di guida tecnica da Paolucci a Di Meo. Non è esistita più sconfitta, ma solo partite utili. Dovesse essere assegnato il 3-0 al tavolino ai Granata. Sarebbe il quattordicesimo punto in sei partite. Un ritmo incredibile che, se confermato, porterebbe certamente fuori l'Agnone dal giro play-out. Alla ripresa dei giochi si affronteranno due delle squadre più vive del momento. Ci sarà infatti Re Canatese-Agnone per uno scontro che si annuncia importante sia per la zona play-off che per quella play-out. L'Isernia aspetta risposte ai punti dalla prossima gara contro il San Nicolò. Il neotecnico Gioffre ha sottolineato che la squadra è in grado di creare occasioni da gol, ma di avere delle difficoltà non indifferenti a finalizzare. Un problema non di scarso rilievo per una squadra in grado di vincere solo una partita delle 11 giocate nel girone di ritorno. Una flessione incredibile, quella avuta dai pentri tra girone di andata e quello di ritorno, che ha relegato i biancocelesti in acque davvero agitate. Per le tremoli sane, dunque, è meglio non fare tabelle particolari per le sei partite residue. Tutte e tre sono impegnate su fronti diversi, ma rilevanti. L'auspicio è fare più punti possibili, poi sarà il momento di tirare le somme.